Ciao gentaglia, sono ShutaHaitu, questo è Breaking Italy, spero sia stato un buon martedì perché sto per rovinarvelo con la prima notizia di oggi. Era il lontano 1998, Marco Pantani vinceva il Giro d'Italia, il famoso film Titanic veniva premiato con 11 Oscar, veniva lanciato Microsoft Windows 98 e nel frattempo il governo Prodi faceva una legge che introduceva la garanzia statale sull'esposizione dei giornali di partito, il che significa detto in soldoni che avete problemi economici ecco qui li ripianiamo coi soldi pubblici ed è quello che è successo in questi giorni. Il governo ha infatti pagato con soldi della comunità gli stessi che vengono utilizzati per pagare la sanità, per pagare le forze dell'ordine, per pagare tutto ciò che è pubblico. 107 milioni di vecchi debiti dell'Unità che è un giornale come sapete fondato da Antonio Gramsci, è stato per lungo tempo il giornale di partito del Partito Comunista, lentamente è andato sempre peggio e appunto in un lontano, lontano periodo ma non così lontano il Partito Democratici di Sinistra nato dalle ceneri del Partito Comunista va detto tranquilli tutti quanti ci accogliamo noi le spese per il fatto che le unità stanno andando male ma noi vogliamo che rimanga in vita. Ma successivamente anche quel partito si è sciolto quindi andiamo velocemente al 2007 che di nuovo non è esattamente ieri quando si parlava del fatto che comunque la voragine sarebbe stata coperta da soldi che verrebbero dal patrimonio immobiliare che era appartenuto appunto ai democratici di sinistra cosa che però non è successa quindi adesso anche se il governo si è impegnato un sacco per non doverli dare questi soldi si è ritrovato a doverli dare. 107 milioni di soldi pubblici che potevano essere utilizzati in qualsiasi modo e invece verranno dati per coprire il buco di un giornale che nel frattempo è morto e poi è tornato a nuova vita più e più volte per la felicità di tutti gli altri giornali che quindi negli anni hanno continuato a scrivere articoli nei quali facciano sapere che l'unità era morta anzi no non è vero anzi si è vero anzi no non è vero e adesso di nuovo non è vero perché a giugno è tornata nelle edicole sempre con i finanziamenti pubblici in Italia però c'è questa tendenza fantastica perché siamo il paese del sole, del cuore, dell'amore, della fraternità e soprattutto del tira a campare di tenere artificialmente in vita delle creature che sarebbero già dovute morire da tempo e che non possono comunque in alcun modo uscire dall'alcoma l'unità è una di queste creature che palesemente non funziona non è in grado di far fronte alla competizione non è in grado di respirare da sola perché comunque riceve come un sacco di altri giornali un sacco di finanziamenti e io sono pure d'accordo coi finanziamenti ai giornali però perlomeno se non funzioni se nessuno ti compra devi chiudere non mi importa che le persone si dovranno cercare un altro lavoro non mi importa che Gramsci è stato un grande uomo politico e che l'unità è stato un grande giornale perché è stato un grande giornale non lo è più altrimenti in Italia dovremmo fare questa cosa con tutti invece la si applica soltanto ad alcune persone non è che siccome in futuro voi potreste decidere che i miei video fanno improvvisamente schifo e decideste di non guardarli più io potrei avvalermi dal fatto che è mai in passato le grandi glorie, grandi fasti e quindi ricevere un sacco di soldi dallo stato e imperterrito continuare a fare gli stessi video che non vengono più visti o mi adatto, cambio o cerco di sopravvivere in un altro modo oppure semplicemente muoio e vado a fare un'altra cosa spostandoci invece in altri paesi su polemiche ben più stupide perché comunque la stupidità ricordiamoci che è un po' il motore dell'internet c'è la christmas war la christmas war e c'è tutti gli anni e quest'anno l'odio si riversa su starbucks la famosa catena con la sirenetta che fa i cappuccini e i frappuccini e i ciacciuccini e tutte quelle robe lì che costano un miliardo di euro e la gente si offende anche in Italia perché come osa aprire starbucks in Italia farà fallire i nostri bar e i nostri giovani diventeranno americani e poi di nuovo cosa stavamo dicendo sul libero mercato ma anche negli stati uniti sono arrabbiati con starbucks perché nel periodo natalizio invece di usare queste tazze useggetta sta dando queste tazze useggetta cioè ha deciso semplicemente di farle rosse quindi in tema natalizio ma senza tutte le stronzate tipo la renna, la calza, il regalo, il fiocco di neve quelle robe lì che ricordano il Natale e questo da alcuni cittadini americani è stato preso come un tentativo di cancellare il Natale perché negli stati uniti c'è un po' questa cosa c'è questa paura che siccome si cerca di essere politicamente corretti e quindi non si dice alla gente buon Natale perché metti che siano ebrei, metti che siano musulmani e non festeggiano il Natale si dice una roba tipo buone feste che è una roba che si fa anche qui in realtà così se è un negozio e hai la sicurezza che nessuno si offende perché la gente si offende per le cose più stupide e questo mi sembra uno di quei casi quanto deve essere vuota la tua esistenza se riesci ad arrabbiarti per il fatto che hanno cambiato una tazza la quale probabilmente nella maggior parte dei casi non presti nemmeno oltre i tre secondi di attenzione guardi giusto per vedere come hanno scritto male il tuo nome non so perché ogni anno gli Stati Uniti invece vengono attraversati da questa roba qui che è un po' una delle tante stronzate riesco a immaginare anche in Italia qualche politico che cavalca questa roba qui ah vogliono toglierci il Natale noi cristiani vogliamo il nostro Natale la renna e il fiocco di neve mi ricordano moltissimo della nascita di Cristo che è nato in un deserto tornando a Bomba in Europa invece la Spagna anzi la Catalogna una regione della Spagna che si trova qui e che è molto ricca ha approvato a maggioranza nel suo Parlamento regionale una risoluzione che va presa in modo intelligente quindi non è semplicemente una cosa stupida dell'ah vabbè non importa non è assolutamente importante ma non è nemmeno una roba che adesso fa dire ok la Spagna si distrutta in due entità diverse approvata con 72 voti a favore e 63 contrari vorrebbe dare il via allo Stato della Repubblica Catalana delegitimando quindi il governo nazionale che ovviamente non è esattamente d'accordo con questa roba qui e infatti il premier spagnolo ha già fatto sapere che ricorrerà alla Corte Costituzionale che quasi sicuramente anzi sicuramente boccerà la decisione del Parlamento catalano perché non è così che funziona sarebbe come se una delle nostre regioni la Sardegna che ha storicamente delle forti dipinte di indipendenza nel Consiglio regionale ad alzate di mano dicesse sapete cosa indipendenza ora siamo un nuovo stato yeee vittoria siamo un nuovo stato non è più Italia quindi perché è così importante perché per la prima volta nel parlamento catalano per la maggior parte ci sono indipendentisti che sono stati votati da quelli che probabilmente per la maggior parte sono cittadini catalani indipendentisti e anche se effettivamente non possono staccarsi in questo modo semplicemente dicendo ce ne andiamo sarà interessante vedere quello che succederà che forme questo tipo di protesta prenderà perché diventerà una protesta nel momento nel quale la corte dirà nope siete ancora a Spagna in ultimo in questi giorni è circolata molto la notizia ripresa da tutti i quotidiani nazionali e internazionali dell'universo è arrivata anche sotto forma di pioggia eccetera eccetera la notizia che i videogiochi combatterebbero la depressione e apparentemente è vero il tutto viene da un articolo scritto per Slate da Jane McGonial una ricercatrice e autrice di vari testi e di un libro proprio che parla di questo di come essere più felici grazie al gaming il che è interessante perché i risultati di vari studi recenti mostrerebbero il contrario di quello che si è sempre creduto ovvero che i videogiochi causassero la depressione e apparentemente non è così specie grazie alle ricerche fatte negli ultimi anni sui videogiocatori grazie alle resonanze magnetiche che fanno vedere semplicemente quali aree del cervello vengono stimolate mentre si fa una certa attività rispetto a un'altra e questa roba permette di scoprire un sacco di cose anche che apparentemente proprio l'approcciarsi al videogioco stimolerebbe due parti del cervello molto importanti quella associata alle motivazioni e al raggiungimento degli obiettivi il che non è strano molti di voi sono dei videogiocatori esattamente come me e capite perfettamente il senso di aver costruito qualcosa di star costruendo qualcosa di inseguire un obiettivo che un videogioco sa dare è fatto tendenzialmente per quello quella è la forma di un videogioco ed è legata anche alla critica che si fa a giochi sandbox come minecraft nei quali alcune persone trovano un sacco di cose da fare e un sacco di obiettivi da inseguire e un sacco di altre persone dicono semplicemente non c'è niente da fare non mi piace perché diverse persone diversi gusti il punto è che un'altra parte importante del cervello viene sviluppata ovvero l'ippocampo la parte che notoriamente nel cervello è dedicata all'apprendimento e alla memoria e moltissimi studi mostrano come invece queste due re del cervello quando si è in una situazione di depressione cronica quindi si passa un lungo periodo di depressione o in certe persone che dalla depressione non escono mai queste due zone siano sottosviluppate diventano proprio più piccole creando un sacco di altri problemi sia nel ricordare le cose nella capacità mnemonica delle persone sia in quello di affrontare i problemi e quindi elaborare strategie conseguentemente ora che me lo dice anche la scienza sono assolutamente autorizzato a chiudere il video qui mandarvi in descrizione dove trovate come al solito il link a tutte le notizie che ho detto se voleste approfondire o voleste verificare o non lo so vedere dove stanno i miei social e andare a giocare a fallout 4 che è lì che mi aspetta e devo dedicargli il mio tempo ma lo faccio nel nome della scienza quindi grazie per aver guardato questi sono federico alessio e alessandro questa foto è figa e fantastica ha il logo in mezzo molto creativa ma allo stesso tempo rispetta le regole per un nerd come me il rispettare le regole è molto importante quindi grazie ragazzi per la foto love you long time e anche a tutti gli altri per essere arrivati sino a qui io sono Shuta Heizu questo era Breaking Italy ci vediamo domani alle 18